Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora oggi sono qui per parlarvi di un'ingiustizia, per parlarvi di un qualcosa che a me sta profondamente a cuore. Io sono una ragazza molto sensibile, anche se a volte non sembra. Questa sensibilità che io maschero da forza incontrastabile a volte viene effettivamente presa per antipatia o acidità, però io in fondo sono una ragazza molto sensibile. Quando ho letto di questa storia, di tutto quello che è avvenuto, io vi confesso che sono stata male, sono stata molto molto male, perché mi rendo conto di vivere, ormai da anni me ne sono resa conto, di vivere in un mondo che non conosce e mai riconosce la giustizia. Vedete, ci sono tantissime persone che perdono i propri cari in modi e in circostanze del tutto dubbie, che portano avanti battaglie legali con la speranza di avere prima o poi giustizia per quel proprio caro che è morto. E che cosa accade? Lo Stato, ma non parlo adesso di Stato italiano, Stato americano, no, parlo dello Stato globale, perché fondamentalmente gli Stati sono governati e controllati da una forza che li unisce tutti quanti. Quindi che cosa fa lo Stato? Porta avanti queste cause, porta avanti queste indagini, depredando le persone di qualsiasi cosa, perché molto spesso queste battaglie legali vengono affrontate anche da famiglie che economicamente non stanno poi messe bene. Quindi lo Stato nel momento in cui va a depredare queste famiglie di ogni cosa, che cosa dice loro? Non si può più andare avanti per mancanza di prove, per mancanza di indizi, eccetera, eccetera. Quindi queste persone non avranno mai un corpo su cui piangere e ve ne ho parlato in lungo e in largo di tante morti dubbie, di tante morti che sono state poi spacciate per suicidi, anche se non lo sono poi effettivamente stati. Non so se voi sapete cosa è accaduto il 25 maggio del 2020, quindi qualche giorno fa. George Floyd, un 46enne afroamericano del Minnesota, è stato ucciso da un agente di Minneapolis. È stato ucciso, ragazzi, da un agente di Minneapolis. Si trattava comunque di un padre di famiglia che nell'ultimo periodo non se la stava nemmeno passando molto bene, perché sappiamo benissimo che questo virus ha devastato un po' l'economia globale e quindi molti si sono ritrovati senza un lavoro. Molti padri di famiglie non riescono tuttora a sfamare i propri figli ed è una cosa grave. Quando vedo titoli di giornali come l'America dal punto di vista economico sta toccando vette inimmaginabili mi viene veramente da ridere, perché quelli sono titoli di ricchi per ricchi fondamentalmente, perché c'è tantissima povertà nel mondo e solo che questa non viene mai ripresa, perché la povertà non è una loro priorità, anzi la loro priorità è impoverire le persone e l'abbiamo visto in lungo e in largo. Quindi si tratta di questo padre di famiglia che aveva anche perso il lavoro nell'ultimo periodo, ha avuto qualche precedente per rapina, però a me non interessa niente. Tu puoi anche avere un precedente per rapina, ma nessuno ha il diritto di ucciderti peggio di un animale. Nessuno, soprattutto un agente. Un agente! E adesso vi spiego il tutto come è andato. Non vi inserirò qui spezzoni di video perché potrebbero urtare la sensibilità di molti. La mia l'hanno parecchio urtata, devo dire la verità. Io non sono riuscita con facilità a vedere queste immagini, non sono riuscita con facilità a vedere queste foto, però comunque l'ho fatto. L'ho fatto perché fondamentalmente so come agiscono tutti questi ibridi, tutti questi servi del potere. Mi farà brividire il fatto che io vi parlo di Ike perché lui per me è il migliore in questo senso. Lui parlava di questa polizia brutale che sarebbe sempre diventata più brutale già 25 anni fa. Quel pazzo di Ike, quel povero illuso teorico della cospirazione che è Ike, parlava già 25 anni fa dell'avvento di questa polizia brutale, del fatto che ci sarebbe stata una polizia a livello globale che si sarebbe occupata proprio di frenare qualsiasi tipo di rivolta. George Floyd era anche un rapper, faceva parte di un gruppo hip hop e veniva soprannominato Big Floyd. È accaduto l'impossibile. Nel momento in cui lui è stato ucciso in modo veramente vergognoso perché è stato sbattuto sull'asfalto con la testa, la faccia rivolta verso l'asfalto, lo ripeto trovate i video e anche le foto. Lui supplicava questo agente di fermare tutto questo e l'agente che lo ha ucciso cosa ha fatto? Gli ha messo un ginocchio qui sul collo, lo ha tenuto per 7 minuti e in questo modo lo ha ucciso. In questo modo lo ha ucciso. Quindi George Floyd è stato ucciso, ucciso da un agente del Minnesota. È inutile che adesso voi cari, anzi cari, laidi e schifosi vermi arconti vi mettete a... perché loro sono insinuati ovunque, anche negli stessi media, no? Che giustamente vedevano da la notizia per ripulire la faccia di questo agente. Che chiamarlo agente qui è un super complimento. Ma anche chiamarlo mostro sarebbe un super complimento. Anche se dall'altra parte si parla comunque di gente programmata dal sistema, ma non mi interessa. Queste non sono cose che si fanno, assolutissimamente no. Che cosa è accaduto? Che adesso stanno circolando delle notizie su internet in cui c'è scritto l'autopsia dichiara che non è morto per asfissia, bla 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 bla. A me non interessano le chiacchiere, i video parlano, le immagini parlano, i molti testimoni che hanno assistito parlano. George Floyd è stato ucciso da un agente del Minnesota. In seguito a questa uccisione sono partite le rivolte. Ovviamente le persone hanno chiesto e stanno chiedendo tuttora giustizia per George Floyd. Che cosa è avvenuto? Che io mi sono ritrovata lì a leggere i titoli di giornali come Trump invia 500 dei suoi lì sul posto con l'ordine di sparare. Con l'ordine di sparare. umani uguale carne da macello per loro. Con l'ordine di sparare. Poi lì a Minneapolis è stato imposto, sembra proprio la scena, sembra una scena presa da uno di quei film futuristici che nel corso della vita ci siamo tante volte ritrovati a guardare. Addirittura lì è stato imposto il coprifuoco proprio per punire la gente che si è messa lì a parlare o a rivoltarsi contro la morte di George Floyd. Fondamentalmente perché? Perché la ritengono un'ingiustizia, cosa che effettivamente è un'ingiustizia. Questo uomo, padre di famiglia, è morto, assassinato da un agente di Minneapolis. Quello che sta avvenendo in America è uno scenario che noi possiamo andare a comparare a tutte quelle cose che vediamo nei cosiddetti film futuristici, rivolte, spari sui civili, anche se questa cosa non mi è nuova, non mi è assolutissimamente nuova. È morto anche un ragazzo 19enne sparato a Detroit. Stanno accadendo cose losche, cose schifose. La polizia che sta diventando sempre più brutale, alte. Con questo non dico che tutti quanti i poliziotti, tutti coloro che fanno parte delle forze dell'ordine sono corrotti. No, fortunatamente ci sono ancora coloro che lottano per la giustizia, ma che fine fanno nel momento in cui vengono scoperti questi individui che lottano effettivamente per la giustizia e che fondamentalmente fanno il loro lavoro? Che fine fanno? O vengono licenziati, o vengono uccisi, tolti di mezzo. Perché non è ammesso in un mondo che è governato dall'inversione arcontica lavorare per il bene, per aiutare i civili. Non è ammessa una cosa del genere, ma figuriamoci, tu che vuoi aiutare i civili? Tu che vuoi svolgere il tuo lavoro con lealtà? Ma va là, non fai parte di questo sistema, non è così che va in questo sistema. Qui va avanti la corruzione. Io chiedo giustizia per George Floyd, ma non soltanto lui, vi parlo di lui, vi prendo come esempio lui, perché in seguito all'uccisione di George Floyd veramente sta succedendo il macello lì. Le persone fanno bene, fanno bene a portare avanti i loro pensieri, quello che pensano riguardo a questa vicenda, anche se queste rivolte vengono rimandate indietro in un modo del tutto, ragazzi io ora brividisco, mi sono venuti brividi in questo momento. Non abbiamo nemmeno più il diritto di esprimere quello che pensiamo. Una cosa ci sembra ingiusta? Che cosa ci dice lo Stato? No, dovete fare gli agnellini, zitti dovete stare. Questo è. Perché nel momento in cui tenti di rivoltarti, nel momento in cui scrivi uno striscione in cui esponi il tuo pensiero e quindi George Floyd è stato ammazzato da questo agente, tu per lo Stato diventi una minaccia. Devi essere tolta di mezzo, perché ora faranno di tutto per ripulire l'immagine di questo agente, o almeno cercheranno di non attribuire la morte di George Floyd a lui. E invece non è così. La verità è che questo è un mondo brutto. Questo è un mondo schifoso, che conosce esclusivamente odio. Coloro che servono l'elite, gli ibridi, gli schiavi del sistema, non conoscono amore, pace, pietà, ma nemmeno quella conoscono. Sono senza empatia, alimentati continuamente dall'odio. E questa è una cosa che farà brividire. È una cosa che farà brividire. Vi rendete conto? Il 2020, per l'agenda arcontica, ormai si sa da anni questa cosa, sarebbe stato un anno cruciale, ed effettivamente lo è. Stanno gettando le basi per quello che loro chiamano avvento del nuovo ordine mondiale. Del nuovo ordine mondiale non è che va parlato soltanto Ike, ve ne ha parlato George Orwell, Richard Day. Insomma, sono tanti, eh, coloro che si sono espressi in merito a questo. Tanti insider, tanti iniziati alle vere conoscenze, al vero sapere. Quindi ci sono stati personaggi che nel corso della storia hanno cercato di redarguire l'umanità su quello che effettivamente stava avvenendo e su quello che sarebbe avvenuto. Ed è proprio questo quello che sta avvenendo. Noi ci ritroviamo dentro a tutto questo gioco sporco. Non so se me ne state rendendo conto. In America sta diventando un qualcosa di assurdo. Guardate le immagini, guardate come è stato ucciso George Floyd. Non è un film, è la realtà. Ed è la vera realtà. Perché questa è la realtà che ci circonda. Non quella che alimentano continuamente con le loro favolette o con i loro articoli rigirati, eh, per avvantaggiare la loro parte. No, la realtà è questa. Che viviamo in un mondo pieno di corruzione. Viviamo in un mondo che non conosce giustizia. Viviamo in un mondo in cui gli individui non si possono nemmeno permettere di dire una parola contro il sistema. Perché subito vengono eliminati. Qui viviamo in un mondo in cui viene osannato lo Stato di Israele che ha ucciso, ha ucciso, non vi dico quanti palestinesi, quanti civili che non avevano nemmeno fatto nulla di male. Ma osanniamo lo Stato di Israele. Perché tutto ciò che fa Israele è lecito. Quando invece si parla del palestinese che prende le sue misure, allora no, vanno eliminati. Ma guardatevi intorno. Qui vengono osannati gli assassini. Vengono osannati gli assassini. E poi parleremo. Parleremo. Adesso vi ho citato lo Stato di Israele perché le sue opere sono lampanti. Lampanti. Le persone nel corso della storia e ormai da secoli vengono fondamentalmente vengono uccise senza un motivo logico. Vengono uccise senza un motivo logico. Civili che sono stati uccisi. Bambini. Bambini. E cosa avevano? Cosa avevano fatto questi bambini? Cosa hanno fatto questi civili? Nulla. Nulla. Si sono semplicemente ritrovati nel posto sbagliato perché i pazzi, sapete com'è? Nel momento in cui vogliono andare a bombardare un determinato luogo, lo fanno. Lo fanno senza, vedete, senza pietà. Lo fanno alimentati esclusivamente dall'odio. E poi vi parlerò. Vi parlerò di quanti paesi ha bombardato il pulitissimo Barack Obama. Che anche di questo bisogna parlare. Proprio per farvi capire da chi è che viene governato uno Stato. Voi non pensate che poi di testimone in testimone la cosa si ripulisce? Perché non si ripulisce proprio niente, ragazzi miei. Qui più andiamo avanti più c'è lo schifo. E anche i cosiddetti presidenti non vengono eletti perché ha il popolo, ha il popolo, ha il popolo, ha il popolo. Nella politica avvengono tantissime cose scorrette. Loro sanno già chi mettere al potere e perché? Loro sanno già chi mettere al potere e perché? Infatti abbiamo visto quello che è accaduto con Kennedy. Lui la guerra nel Vietnam non la voleva. Lui voleva ritirare i suoi dal Vietnam. E che cosa è accaduto? Che lo hanno ucciso e la guerra nel Vietnam ha continuato comunque a collezionare vittime, civili uccisi. Una guerra? che secondo molti, perché ci sono tante dichiarazioni, non sarebbe mai dovuta avvenire, mai dovuta scoppiare e non si sarebbe mai dovuta alimentare. Adesso sto un po' allargando l'argomento, però ragazzi guardatevi intorno perché le cose, questo era per dirvi che tutte queste ingiustizie accadevano nel passato e accadono tuttora. Anzi, ad oggi noi stiamo assistendo ad un qualcosa che fa davvero venire brividi. E la polizia, scusate ma qui c'è brutto tempo, quindi se sentite i rumori di sottofondo è il temporale. La polizia sta diventando sempre più brutale. Io credetemi quando ho visto le immagini di George Floyd, di questo uomo steso così sull'asfalto e questo mostro con il ginocchio qui per sette minuti avevo una rabbia dentro che più e più volte sono dovuta ritornare sul video perché non sono riuscita subito a guardarlo così, non sono riuscita subito a guardarlo. Quindi vi chiedo per favore, io invoco il vostro risveglio perché sì, ci ritroviamo comunque in un gioco più grande di noi. Ma questo gruppo è meglio alimentarlo, no? È meglio alimentarlo. Risvegliateli ragazzi, guardatevi intorno, guardatevi intorno e cercate un attimo di capire. Ovviamente io vi consiglio sì di leggere i libri di David Icke ma a sto punto l'unica cosa che rimane da fare è guardarsi intorno perché questo è lampante quello che sta avvenendo, è lampante. Non è che leggendo un libro scoprirete, no? Sì scoprirete senza ombra di dubbio cose super, super ingiuste, però tutto quello che Icke scriveva si sta andando a concretizzare, quindi vi basta guardarvi intorno per capire ciò che Icke denunciava già 25 anni fa. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di tutto questo, addirittura del coprifuoco che è stato imposto per frenare le rivolte, dei titoli di Trump e che ha inviato questi 500 suoi, no? Suoi uomini con l'ordine di sparare del 19enne che è stato ucciso a Detroit e chissà quanti altri sono stati uccisi e saranno uccisi soltanto per, no? Aver espresso il proprio parere, quindi esprimere il proprio parere ad oggi in questo sistema è visto come essere rivoltosi e quindi bisogna spazzare secondo loro questi rivoltosi via. Io invece vi dico di avere sempre la faccia di esprimere il proprio parere, io ringrazio tutti coloro che come me a viso scoperto, perché sono queste le persone che io apprezzo, le persone che lo fanno a viso scoperto, denunciano tutte queste cose e allo stesso tempo infondono coraggio anche a voi. Quindi fatemi sapere tutto quello che volete, viviamo in una inversione, in una completa inversione arcontica, ma sono comunque contenta che ci siano persone che lottano per queste ingiustizie e comunque continuano in un modo o in un altro ad esprimere il loro parere e ad illuminare soprattutto le menti. siate forti, fatemi sapere quello che volete, io vi do appuntamento alla prossima e vi auguro un buon proseguimento.